verrebbe da dire dove eravamo rimasti bentornati a tutti e il 31 di agosto sono le ore 17 dopo ormai qualche settimana ci rivediamo per quella che la mia prima diretta dopo la pausa estiva diciamo che oggi sarà soprattutto una sorta di grande riassunto delle puntate precedenti visto che non ci siamo sentiti per qualche tempo e visto che comunque è stata un'estate nella quale sono successe tantissime cose molte delle quali spiacevoli molte delle quali particolarmente gravi però prima di entrare appunto nel merito di entrare nella sostanza delle cose lasciatemi fare il solito rituale di inizio di inizio diretta ricordandovi innanzitutto di pigiare sulla freccia dove leggete condividi in modo tale da poter avere più persone che ci ascoltano durante la diretta e anche evidentemente che possano vedere il video che lascerò poi su youtube e naturalmente sulla pagina facebook per cui per chi non ce l'avesse fatta e fosse ancora visto che è venerdì di fine agosto magari ancora in vacanza ancora al mare anche se il tempo sta peggiorando comunque c'è la possibilità di vedere questa diretta con qualche minuto qualche ora di ritardo e quindi mi raccomando condividete e poi naturalmente voglio dirvi che appunto cominciamo alla grande nel senso che nonostante sia venerdì e sia ancora fine agosto ci vediamo già domani che è sabato e normalmente ricordate il sabato e la domenica il mio orario preferito era quello delle 17 in modo tale da non poter da non disturbare il pranzo con i vostri cari e fare in modo appunto di poterci vedere e sentire durante il pomeriggio quindi appuntamento domani sabato primo settembre alle ore 17 orario del weekend ma dicevamo appunto dove eravamo rimasti è stata un'estate appunto intensa importante io voglio per primissima cosa prima di discutere diciamo così di politica esprimere un ricordo commosso per le per le vittime della tragedia di genova è stata è stato uno di quei momenti che poi si ricordano io immagino che tutti noi a distanza anche di anni ricorderemo dove eravamo esattamente nel momento in cui è caduto il ponte è stata una cosa assolutamente inimmaginabile era il 14 di agosto era la tarda mattinata io ero a londra e la notizia mi è arrivata tramite un collega che si chiama franco vazio un collega ligure tra l'altro che ci ha scritto sulla chat dei deputati dei deputati del partito democratico sono andato immediatamente a vedere sul sito di repubblica ho visto questa foto lunare non so veramente come altro definirla perché il ponte morandi era un posto sul quale io credo tutti siamo passati prima o poi e naturalmente chi vive a genova in liguria lo faceva quotidianamente ma chi vive nel nord italia per tante ragioni ci è passato tante volte io ho lavorato in liguria per quasi due anni prima di cominciare a fare politica alla fine degli anni 90 mi occupavo per una banca italiana della direzione del personale di tutta l'area liguria e moltissime delle nostre filiali erano nella provincia d'imperia quindi nel ponente e non so quante volte col mio direttore di area appunto sono andato verso verso savona verso verso imperia verso ventimiglia sanremo e quante volte ci sono passato se soltanto il pensiero che quel ponte sia stato in piedi per 50 anni ed è bastato essere lì al momento sbagliato un secondo in 50 anni in fondo veramente un gioco uno scherzo orribile del destino ha colpito tantissime persone e ha interrotto non soltanto la vita di una città ma credo abbia lasciato l'intero paese assolutamente di sasso paralizzato e quindi la prima cosa che voglio dire al di là delle polemiche politiche mi sembra giusto anzi avrei voluto che anche la politica facesse così e cioè che si fermasse un momento per rispetto per le persone che sono state coinvolte da questo dramma sia ovviamente i morti ma anche le persone che hanno perso casa che sono fuori di casa io credo andassero trattate dovessero essere trattate con un rispetto che la politica sinceramente non ha non ha dimostrato e non tutta la politica ecco lasciatemi dire anche questo e quindi un momento di ricordo è un momento che mi sembra che mi sembra doveroso detto questo però facciamo un passo indietro perché per me l'estate politica è cominciata con un altro episodio che mi ha veramente fatto riflettere ed è stata una cosa che quando è successo ho pensato appunto che ve ne avrei parlato che meritasse di essere considerato un elemento simbolico dell'epoca della fase che stiamo vivendo ed è stato non so se ve lo ricordate perché poi sono successe tante cose è stato quel momento quel giorno nel quale una persona credo fosse una donna su un treno delle ferrovie nord qui in lombardia vicino a milano ha preso l'interfono del treno e ha detto delle cose molto sgradevoli molto pesanti nei confronti dei nomadi credo dei rom che erano che erano sul treno a chiedere a fare l'emosina dicendo appunto avete rotto le balle insomma con termini anche più coloriti di quelli di quello di quelli che uso io e sono successe due cose una che un cittadino raffaele ariano ha denunciato la cosa dicendolo su un treno e improvvisamente ho sentito il capotreno pare che diceva queste cose assolutamente incredibili per date dato che le sentivo dal dall'altoparlante del treno e questo raffaele ariano è stato fatto oggetto di una sorta di linciaggio su facebook sui social media perché si era permesso di dire che questa che questo questo l'uso improprio di questo di questo strumento di lavoro per dire quelle cose era del tutto inconcepibile e quindi diciamo un pezzo d'italia si accanita non contro la persona che aveva utilizzato l'interfono del treno ma contro la persona che normalmente si era stupita di sentire quelle parole dette dal capotreno o comunque da un dipendente delle ferrovie nord e quindi già il mondo all'incontrario ma poi quello che è successo secondo me ancora più gravemente è che il ministro dell'interno Matteo Salvini non ha perso l'occasione di dire ma secondo me la persona che ha detto queste cose sul sul treno è utilizzando l'interfono quindi utilizzando l'altoparlante del nelle carrozze del treno ha fatto benissimo perché questi zingari hanno rotto appunto le balle e quando è successa questa cosa io sono rimasto molto colpito a parte per la persona di raffaele ariano al quale poi sono riuscito ad arrivare lo ci siamo sentiti e gli ho testimoniato la mia vicinanza penso di averlo fatto anche a nome vostro che seguite queste dirette perché sono sicuro che aveste potuto parlargli avreste fatto la stessa cosa ma soprattutto quello che mi ha colpito è stato l'atteggiamento di Salvini perché ho trovato che fosse un comportamento assolutamente sintomatico che simboleggiasse bene il suo concetto dello stato da due punti di vista uno perché io sono sempre un vecchio direttore del personale e quello facevo nella vita prima di cominciare a fare politica e mi è stato sempre insegnato che gli strumenti di lavoro si utilizzano soltanto per ragioni di lavoro e quindi qualsiasi cosa avesse detto questa persona sul treno anche avesse fatto gli auguri di Pasqua di Natale o avesse detto non so mio figlio si sposa domani o mia figlia si è laureata in giurisprudenza avrebbe fatto male perché se tutti noi o se tutti coloro che lavorano sui treni cominciano ad utilizzare l'interfono per dire gli affari loro evidentemente diventa una babele non va bene non è una cosa che si può consigliare quindi un membro di governo al limite avesse voluto parlare avesse voluto dire un'opinione anche magari per esprimere un accordo sul contenuto del messaggio avrebbe dovuto dire però magari non usiamo gli strumenti di lavoro in modo improprio non solo non ha fatto questo salvini ma ha detto che la capotreno o chi chiunque lei fosse aveva assolutamente ragione e la cosa che mi ha colpito perché è proprio un elemento esemplificativo del degrado che vivono i nostri rapporti politici è stato che io credo che chiunque ricopra l'autorità e rivesta un ruolo di attori di autorità e soprattutto se questa persona è il ministro dell'interno uno dei compiti diciamo uno dei suoi compiti principali uno dei compiti principali di chi fa quel mestiere è quello di tenere l'ordine pubblico di tenere bassi toni di fare in modo che il clima all'interno del paese sia il quanto più temperato possibile il quanto più civile il quanto più democratico e invece che cosa fa il ministro degli interni dice no non soltanto la capotreno ha utilizzato e ha fatto bene utilizzare l'interfono ma ha anche ragione in questo modo legittimando e questo è stato il primo evento di una serie che poi abbiamo visto durante l'estate ne parlerò tra poco così legittimando come dire una sorta di una sorta di escalation una sorta di aumento della pressione una sorta di aumento della del tono generale della discussione ma si diciamoci va bene se uno dice che gli zingari o i neri o chi altri hanno rotto i maroni o le balle o altri termini utilizzati nel caso perché è vero perché non se ne può più il fatto che lo dica però il ministro degli interni comporta una grande una grave responsabilità politica perché come dicevo il ministro degli interni è responsabile dell'ordine pubblico della situazione generale del paese e il fatto che questo ministro degli interni anzi che spegnere i fuochi abbia un atteggiamento incendiario è evidentemente il segno di una grande diciamo di una perdita qualitativa del nostro dibattito politico e soprattutto corre il rischio che oltre a perdersi la qualità del dibattito pubblico questa escalation comporti che poi magari qualcuno come abbiamo già visto succedere per esempio a macerata appunto qualche eroe solitario decida non soltanto di utilizzare l'interfono del treno ma di fare molto molto di più e quindi questo diciamo evento che è stato l'evento di inizio estate mi ha molto colpito perché in un certo senso ha dato il segno di questo di questo peggioramento e di di quale fosse la sorta la china che stavamo stavamo andando a prendere e mi ha fatto molto pensare poi appunto è successa la vicenda del ponte e in realtà questa modalità di fare politica è esplosa dicevo prima io penso che le vittime del crollo di genova meritassero maggior rispetto il fatto che si sia sostanzialmente utilizzato il crollo del ponte per fare una sorta di tiro al bersaglio di tiro al piccione e anche per fare una sorta di resa dei conti politica tra partiti tra movimenti io penso sia stata una cosa bruttissima sia stata una forma di sciacallaggio lo dico lo dico sinceramente perché guardate è chiaro che per quanto riguarda il ponte di genova tutte le responsabilità vanno individuate vanno punite anche con estrema severità però ci sono una serie di cose che noi non dobbiamo perdere di vista innanzitutto quindi il rispetto di chi ha sofferto di chi è morto di chi ha perso dei congiunti di chi ha avuto dei danni economici di chi ha perso casa per cui quello che la politica dovrebbe fare è chiedere giustizia chiedere a chi la deve fare cioè la magistratura che le indagini siano le più approfondite possibili le più rapide possibili che si faccia pagare il conto a chi non ha fatto il suo mestiere senza guardare in faccia a nessuno però attenzione quando noi chiediamo questo noi dobbiamo farlo sempre nell'assoluto rispetto delle regole l'assoluto rispetto delle regole non significa voler dare un lascia passare un salvacondotto un salvagente a chi ha sbagliato rispettare le regole il garantismo non significa tutelare i colpevoli il garantismo significa che i colpevoli vanno cercati attraverso le regole democratiche che ci siamo dati perché non so se ricordate ma una cosa molto grave che è successa è stata che il presidente del consiglio conte nell'immediatezza dei fatti ha detto che noi non potevamo aspettare noi loro non potevano aspettare i tempi della giustizia quindi che bisognava fare giustizia sommaria questo è il modo che ha di dire chi deve giustificare un'esecuzione nel cortile di palazzo chigi cioè si mette il plotone in esecuzione si dice non abbiamo il tempo di aspettare la giustizia e quindi passiamo per le armi chi riteniamo che sia colpevole diciamo cerchiamo diciamo al popolo gesù o barabba quando il popolo ci dice gesù noi non possiamo aspettare i tempi della giustizia prendiamo gesù lo crocifissiamo lo crocifiggiamo o barabba dipende poi come si come si schiera il popolo allora io penso questo che confondere il rispetto delle regole con il diciamo così una modalità di protezione del colpevole cioè dire che rispettare le regole significa non far pagare chi ha sbagliato vuol dire fare un'enorme confusione significa in buona sostanza stabilire che il potere politico che esercita il potere giudiziario e quindi buonanotte alla famosa separazione dei poteri guardate che questa è una cosa seriamente molto seriamente grave è una cosa che in bocca a un esperto di diritto a un professore universitario di diritto come il presidente del consiglio non si può sentire perché appunto significa dire che le sentenze non le daranno più magistrati sulla base di un processo ma le daranno i politici sulla base dei sondaggi d'opinione si fa in un attimo a prendere gli oppositori politici e a passarli per le armi no perché a quel punto lì sarà se diciamo diventa semplice dire che l'opposizione non so può essere fatta oggetto di questo che chiunque sia scomodo può essere assoggettato a una sanzione penale senza aspettare i tempi della giustizia allora questa è una cosa che va chiarita le responsabilità vanno accertate punite severamente ma nell'assoluto rispetto delle regole perché nel rispetto delle regole ci sta il come dire sta il senso della nostra libertà della nostra del nostro essere un paese democratico 1 2 è evidente che chi ha esercitato quelle concessioni e aveva delle responsabilità deve essere guardato con particolare attenzione però attenzione anche guardate questo non significa lo voglio chiarire molto bene non significa voler proteggere assolutamente chi quelle concessioni ha esercitato bisogna anche tener conto che quando si parla di dell'economia e si parla dell'economia esercitata con il controllo anche direttamente attraverso lo stato per esempio con le nazionalizzazioni che sono state molto evocate quindi quando lo stato interviene in economia quando la politica interviene nell'economia deve farlo nel grande rispetto delle regole perché come sappiamo si tratta spesso di aziende magari quotate in borsa dove tante persone investono tanti investitori grandi ma anche tanti investitori piccolini o piccolissimi e le parole dei politici possono provocare delle grandi oscillazioni ora questo non vuol dire che noi poiché vogliamo rispettare anche queste regole non vogliamo diciamo punire eventualmente o non ci vogliamo preoccupare di cose più gravi come per esempio chi ha avuto dei danni gravi fino alla perdita della vita però significa che la politica anche quando esercita un ruolo diciamo severo quando deve incidere perché è successo qualcosa di così grave deve sempre farlo nel rigoroso rispetto delle regole questo è fondamentale guardate io su questo insisto perché una volta che si fa saltare una regola in questo modo poi si possono far saltare molte altre si prende una sorta di china si va un effetto valanga un effetto palla di neve che non sappiamo dove possa arrivare io devo dire la verità tra l'altro sono anche interessato assolutamente a discutere dove stiano le responsabilità politiche perché è chiaro che ci sono anche delle responsabilità politiche ci possono essere ed è anche giusto che vengano sottolineate giustamente una parte alcuni miei colleghi hanno fatto notare che le concessioni alla società autostrade furono sostanzialmente liberalizzate con il governo berlusconi e col voto personale a favore di matteo salvini però vi dico che perché c'è una responsabilità politica e magari possiamo avere avendo governato anche noi delle responsabilità politiche anche noi se saranno accertate le accetterò però certo il fatto è che quando concessioni sono state date sono state date anche contro investimenti cioè se vuol chi il concessionario che vuole guadagnare deve anche investire e quindi ci sono responsabilità politiche su chi ha sganciato i due elementi rendendo il concessionario molto più libero c'è la responsabilità politica di chi per esempio non ha voluto costruire la gronda che era quella struttura che avrebbe alleggerito sicuramente non avrebbe insomma forse il ponte sarebbe crollato lo stesso non sappiamo ma certamente avrebbe dato un'alternativa anche oggi a genova se ci fosse stato questa bretella che in un certo senso bypassava il ponte e sappiamo che c'è una responsabilità politica di chi la gronda non l'ha voluta il momento 5 stelle ha delle responsabilità precise però vedete io di responsabilità politiche parlo in fondo a questa a questo excursus sulla vicenda di genova perché io credo che la politica sebbene sia evidentemente importantissima e sebbene sia giusto che gli elettori siano informati ci sono i momenti in cui deve fare dei passi indietro e ci sono i momenti nei quali deve avere anche la dignità del silenzio da tutte le parti perché ripeto quando ci sono dei cadaveri che sono ancora caldi che vanno ancora sepolti io penso che fare appunto un fare di questo oggetto di battaglia politica e di resa dei conti politico diventa veramente come ho detto prima una forma una forma di sciacallaggio quindi è bene che adesso si veda che cosa si deve fare è bene che le regole siano ancora rispettate io sono stupito di quando appunto qualcuno dice a facciamo costruire il ponte a tizio caio sempronio di solito quando si fa una grande opera pubblica ci deve essere una gara d'appalto io non so l'abbiamo sospesa questa vicenda questa il fatto che ci siano delle delle gare per poter aggiudicarsi dei delle opere pubbliche non esiste più mi piacerebbe chiederlo così come mi piacerebbe chiedere appunto a chi evoca le nazionalizzazioni e quindi il ritorno dello stato imprenditore mi viene da chiedere ma dove avete vissuto non ricordate che lo stato in italia è stato imprenditore per tanto tanto tempo e non è che abbiamo avuto sempre una garanzia di funzionamento efficace delle strutture gestite dallo stato io penso che il problema non sia tanto appunto se c'è un se sia dello stato dei privati io penso che il problema siano i monopoli penso che noi abbiamo avuto sempre un problema nel nostro paese di creare dei mercati aperti nei quali ci fosse una vera competizione una vera concorrenza ecco tornare al monopolio dello stato io non credo che sarebbe necessariamente una soluzione favorevole perché noi siamo stati per tanti anni per tanti decenni figli dello stato imprenditore c'è stato un periodo in cui lo stato faceva addirittura le conserve di pomodoro e faceva addirittura i cartoni del latte e io sinceramente non penso che questo sia il mestiere dello stato anche perché poi la politica di cui per esempio il momento 5 stelle parla sempre così male dicendo che appunto il politico è corrotto per definizione è chiaro che il momento in cui si nazionalizza il controllo della politica diventa molto molto invasivo e quindi non so se poi alla fine a noi italiani convenga rimettere tutto dentro un carrozzone un carrozzone statale o se invece non ci convenga pensare di più ad avere un mercato che sia efficiente che sia aperto che sia concorrenziale che quindi in questo senso avvantaggi i consumatori perché i consumatori si avvantaggiano quando c'è una competizione vera e propria però di questo parleremo sicuramente nelle prossime settimane certo è che abbiamo avuto una audizione del ministro toninelli davanti al parlamento la settimana scorsa nella quale toninelli ha parlato per un'ora e mezza dicendo sostanzialmente niente non sappiamo appunto come genova sarà effettivamente aiutata noi del pd abbiamo fatto alcune proposte come per esempio quella di sospendere i mutui per i cittadini colpiti cosa che avevamo già fatto con appunto con gli eventi sismici del centro italia insomma saranno cose di cui avremo modo di parlare però ci tenevo in questa diretta che mi perdonerete sarà un po più lunga del solito di inizio dell'attività autunnale a fare un attimo il punto su quello che era successo più brevemente naturalmente voglio parlare anche di un altro evento che è stato molto importante che è stata questa cosa indecorosa della 18 della motonave con i migranti ferma appunto a largo una motonave italiana che non può entrare nel porto in un porto italiano senza una ragione precisa al punto da indurre la magistratura a cominciare delle indagini nei confronti del ministro dell'interno vedete questo degradare della politica si è visto anche in questo modo quando salvini dice ogni indagine contro di me è una medaglia all'onore una medaglia diciamo al valore è una cosa che è preoccupante perché un ministro non dovrebbe io credo mai vantarsi di agire fuori dalla legge o al di sopra della legge perché il ministro sta lì per farla rispettare la legge diciamo per perché è la legge in un certo senso è la repubblica è l'istituzione e allora io sicuramente non sono particolarmente tifoso della lotta politica fatta attraverso i magistrati è una cosa che francamente mi ripugna alquanto e penso che l'avversario politico debba essere sconfitto sempre con le idee e mai con i mandati di cattura o con gli avvisi di garanzia però certo il fatto che una parte del governo il governo una parte del governo un personaggio così importante come il vicepresidente del consiglio dica sostanzialmente utilizzando uno dei dei motti fascisti che a lui piace tanto e dica me ne frego un po come i molti nemici molto onore di cui abbiamo già sentito risuonare l'eco nelle parole del ministro salvini è molto preoccupante perché perché non si fa così il fatto di avere un certo consenso popolare anche ampio anche se ricordiamo che la lega fino a prova contraria ha preso meno voti del pd alle ultime elezioni quindi diciamo il 17 per cento va benissimo è sicuramente un importante percentuale ma questo non significa che tu sei il re sole ecco il fatto che sulla base di questo consenso popolare poi magari aumentato da quello che dicono i sondaggi però si possa pensare di essere superiori o estranei al dettato della legge è una cosa che appunto è indice di un grave degrado del nostro dibattito pubblico oltre al fatto che su questo evento su questa cosa tra l'altro si è cercato anche in questo caso come era già successo sul ponte di genova di tirare in mezzo l'europa quando giustamente gli europei hanno detto la nave italiana il porto italiano il governo italiano cosa vorrete mai da noi e su questo sappiamo benissimo che il governo non sta portando a casa nessun risultato e di oggi sono di oggi le parole dall'europa del ministro moavero milanesi che ancora una volta ha detto che il regolamento di dublino di cambiarlo non se ne parla che c'è la volontà di farlo ma effettivamente novità non ce ne sono ma anche di questo avremo sicuramente occasione occasione di parlare però il brutto che tutto tutta questa manfrina si è consumata sulla pelle di povera gente di disperati che erano su quella nave nessuno ne ha parlato ma alcuni miei colleghi tra cui maria elena boschi sono andati sono saliti sulla sulla 18 per per accertarsi delle condizioni di salute di queste persone e hanno trovato delle delle scene hanno visto delle scene inarrabili tutto questo avviene questa lotta di potere questo questo questa bassa speculazione politica perché di questo si tratta avviene poi alla fine sulla pelle di povera gente disperata e anche in un modo che è privo di qualsiasi senso di umanità ora io non dico che il tema delle grandi migrazioni che stiamo osservando che abbiamo osservato in questo scorcio di secolo e di millennio di inizio millennio non siano una questione seria non vada non vadano gestite con riflessioni importanti e con strategie complesse e quindi non voglio dire che non si tratti di un tema importante o non si tratti di un tema che ci pone davanti a delle sfide particolarmente complicate da risolvere però la verità è che pensare di farlo su 100 120 uomini donne bambini disperati che stanno appunto lì a chiedersi che cosa ci facciamo noi qui e poi a parte il nostro equipaggio tra l'altro che ci va di mezzo in modo del tutto incolpevole mi fa pensare che questo degrado della politica sia arrivato già a un livello veramente di guardia e mi preoccupa moltissimo voglio chiudere questa diretta che è già lunghissima mi pare insomma siamo siamo abbastanza lunghi però appunto ripeto è un numero un po' speciale sui fatti legati al partito democratico e quindi a qual è il destino che ci aspetta sapete che è in primavera quindi prima delle elezioni europee dovremmo avere questo congresso però non posso nascondere che sono stato particolarmente colpito da quello che è successo a genova durante i funerali delle vittime di alcune delle vittime del ponte e tutti i giornali l'hanno riportato sappiamo che Rocco Casalino si è molto preoccupato che i giornali lo facessero che il pubblico o almeno una parte del pubblico ha molto applaudito Salvini e Di Maio che tra l'altro sono arrivati insieme alla cerimonia funebre e avrebbero si sarebbe appunto e hanno fischiato Roberta Pinotti tra l'altro genovese è una ministra che è stata molto apprezzata durante gli anni del suo del suo lavoro da tutti credo unanimamente apprezzata e il segretario Martina qualcuno ha detto è stata una cosa organizzata ma adesso al di là del fatto che sia organizzata o meno io non voglio negare il fatto che oggi come oggi esiste secondo me una forma di damnazio memorie mi viene da chiamarla così una forma di accanimento nei confronti del partito democratico cioè devo dire che la cosa che ho notato ho voluto come dire guardarla anche in questi giorni di maggiore calma di maggior distacco tra l'altro all'estero quindi guardavo la situazione italiana anche con un distacco maggiore devo dire c'è proprio una forma di accanimento nei confronti del PD mi incuriosiva moltissimo per esempio un articolo che è uscito su uno dei principali quotidiani italiani verso la fine di agosto e era un reportage dall'unione europea e il giornalista importante tra l'altro che firmava il pezzo voleva dire che l'attuale governo si è messo in una condizione difficilissima in europa e che cosa ha scritto questo giornalista cominciava dicendo guardate è diverso essere isolati ed essere ridicolizzati in europa isolati lo siamo stati anche in precedenza e continua il giornalista penso per esempio all'epoca del governo renzi che tanti errori ha fatto durante i suoi anni di governo verso l'unione europea ma oggi non siamo più isolati siamo ridicolizzati questo era l'incipit dell'articolo che cos'è che mi ha colpito di questo articolo mi ha colpito il fatto che questo giornalista che scriveva un pezzo per criticare il governo attuale si è sentito in obbligo in dovere di dire guardate io condanno il governo attuale ma non è che sono amico di quelli di prima per carità quasi come a dire non voglio essere sospettato perché parlo male di chi governa oggi non vorrei mai che voi sospettate che io sono amico di quelli di prima cioè che apprezzo i renzi gentiloni paduan e così via è un atteggiamento molto corrente no quasi come se appunto del pd pd avesse uno stigma per cui del pd si deve parlare male fondamentalmente non fa come non fa figo parlare bene del pd per cui questi governanti di oggi non mi piacciono ma non pensiate che io simpatizzi per il pd tant'è che io mi sono fatto quasi come dire un'analisi dicendo ma oggi se io dovessi dire quali sono i giornali o i giornalisti che sostengono il pd sinceramente non me ne viene nessuno non mi viene in mente nessun osservatore che spenda una parola a favore del partito democratico e dell'esperienza di governo della scorsa legislatura ecco ne ho trovata soltanto una che è natalia aspesi che su un suo pezzo uscito su repubblica il 25 di agosto ha fatto una specie di coming out dicendo di essere iscritta al pd ma ecco a parte questa notevolissima tra l'altro eccezione di natalia aspesi che persona che io spimo tantissimo non me ne viene in mente nessun altro quindi questa forma di appunto da nazio memoria è sicuramente una grande zavorra zavorra per il pd perché evidentemente tirarsi fuori da questa da questa atmosfera per quanto si lavori e si fatichi io lo vedo nel gruppo parlamentare anche tutto quello che è stato fatto in questi giorni appunto la discussione su genova in realtà i miei colleghi hanno operato e operano in modo estremamente efficace io ne seguo molti ma adesso non voglio fare nomi ma anche sui social media vedete che alcuni di noi fanno un'opposizione molto ficcante dicendo delle cose molto precise ecco un esempio lo posso fare la scoperta del fatto che salvini aveva votato a favore dell'allargamento delle concessioni delle condizioni delle concessioni a favore di benetton è stata una cosa che ha trovato debora serracchiani e che è stato secondo me un bel pezzo anche di come dire di investigare di giornalismo investigativo e anche un modo per fare opposizione in modo molto efficace perché evidentemente salvini è stato messo in difficoltà però se voi leggete i giornali quello che si legge è che il pd che l'opposizione è inesistente che lega 5 stelle fanno allo stesso tempo posizione governo che quindi il pd non non ci sarebbe io penso che da questa come dire da questo atteggiamento generale da questa cattiva stampa che non è solo una cattiva stampa della stampa ma in generale questo problema reputazionale sia un bel casino per il pd perché come se ne viene fuori mi chiedo anche se tu fai tante cose come fai a venirne fuori e quindi questa è una prima difficoltà la seconda difficoltà che vedo è che questo congresso bisognava farlo prima bisognava farlo subito bisognava immediatamente capire qual era la strada che il pd andava a prendere invece oggi abbiamo un segretario che per quanto sia il segretario al 100 per cento c'è un segretario legittimamente eletto dall'assemblea è un segretario che non si capisce quale su quali forze possa contare all'interno del partito perché diciamo i cosiddetti renziani non credo non lo individuano come il loro candidato ma dall'altra parte diciamo la cosiddetta minoranza sostiene zingaretti quindi martina è un segretario sì ma non sappiamo ancora per quanto tempo quindi probabilmente per pochi mesi e tra l'altro le linee politiche che si confrontano sono due linee politiche diciamo difficilmente compatibili tra di loro tenete conto che anche i rapporti all'interno del partito noi abbiamo avuto per anni uno come michele emiliano che ha detto di tutto e di più sulla minoranza adesso ricreare una civiltà dei rapporti all'interno del partito non sarà semplicissimo e quindi queste io vedo due zavorre molto pesanti uno l'esito del congresso e soprattutto della vita post congressuale del pd da un lato e dall'altro anche questa appunto questa cattiva reputazione che qualsiasi cosa si faccia colpisce il partito democratico io voglio dire una cosa molto molto chiaramente io non ho intenzione di fare delle abbiure non ho non mi vergogno affatto di appartenere al partito democratico e non mi vergogno della nostra esperienza di governo anzi ne sono molto orgoglioso sono molto orgoglioso delle cose che abbiamo fatto al governo perché che se ne dica e che che ne voglia dire la stampa che che ne voglia dire come dire il l'uomo della strada io mi ricordo bene quali erano i numeri e com'era l'italia del 2013 e ricordo bene com'è stata l'italia del 2000 fino al 2018 oggi sono usciti dati istat sulla disoccupazione fino al giugno quindi fino a che siamo stati al governo noi e anche oggi i dati erano erano positivi il 10 e 4 di disoccupazione la disoccupazione giovanile legge leggermente sopra il 30 per cento quindi in gravi notevole diminuzione da quando siamo arrivati al governo nel nel 2004 2013 2014 e quindi non mi vergogno non voglio assolutamente abbiurare io mi sento fortemente appartenere al pd quella la mia casa quelle sono le mie idee e devo dire che nonostante queste due zavorre di cui parlavo quindi questa cattiva reputazione da un lato e dall'altro anche questo tema dei rapporti interni io sono fiducioso per una ragione perché penso che al di là del contenitore partito democratico quello che davvero conta sono gli ideali che noi rappresentiamo che guardate che che ne dicano i sondaggi io non riesco a credere che quegli ideali rappresentino soltanto il 15 il 16 il 18 il 13 per cento degli italiani perché sono sicuro che in questo paese valori come il lavoro valori come la solidarietà valori come la democrazia rappresentativa valori come l'europa valori come la scienza valori come l'uguaglianza tra i generi valori come i diritti civili la crescita la crescita sostenibile che è una delle grandi scommesse che dobbiamo risolvere rispetto a chi invece predica la decrescita la nostra vocazione come grande paese industriale il nostro il nostro punto il nostro ruolo saldamente ancorato all'europa i suoi valori alla pace che l'unione europea ci ha assicurato finora quindi la battaglia per un'europa che funziona meglio non per uscire dall'europa comprendere l'importanza di quello che è l'euro che abbiamo in tasca sono tutte cose che io sono sicuro come dire rappresentino il sentire di una parte del paese che va molto al di là del 18 17 15 20 quello che è diciamo il peso stimato del partito democratico ed è su quello che dobbiamo lavorare io penso penso che quello sia davvero la sfida che abbiamo poi certo al pd io come ho detto sono affezionato per primo quella mia casa nel pd io ho fatto diciamo tutta la mia vita politica e nel pd ho fatto un'esperienza alla quale ripeto non rinuncio io non mi vergogno anzi sono orgoglioso delle cose che ho fatto in questi anni al governo sono orgoglioso dei miei colleghi dicevo prima di roberta pinotti ma penso a quante quante persone di valore hanno lavorato per l'italia rappresentandola e tirando fuori l'italia da una situazione molto complicata nella quale era e dalla quale seppur parzialmente con tutte le difficoltà del caso siamo venuti fuori anche se c'è ancora molto da fare io appunto questo lo voglio dire lo voglio dire con chiarezza per cui osserverò e cercherò anche di accompagnarvi nel viaggio che il partito democratico dovrà fare tenendo conto che però il partito democratico è uno strumento ed è lo strumento per l'affermazione di quel set di valori di cui parlavo ed è quella la cosa della quale noi dobbiamo tener conto in primo luogo perché sono quei valori che devono essere rimessi io penso al governo del paese per fronteggiare per arginare questa questa ondata diciamoci la verità di destra estrema questo progetto politico di destra estrema che ha preso momentaneamente il potere nel paese noi dobbiamo riportare al governo possibilmente sotto l'insegna del partito democratico ma non è tanto quello che conta dobbiamo riportare quei valori intorno ai quali il partito democratico è nato ed è cresciuto ed anche prosperato in questo paese allora forse ecco la soluzione non è sicuramente guardare guardare indietro io ho letto con attenzione quello che scrivono importanti osservatori importanti compagni del pd che stanno scrivendo in questi giorni ho letto l'intervista di zingaretti ho letto l'intervento di walter veltroni però ecco la mia raccomandazione non è quella di guardarci indietro ma è quella di andare avanti le sfide non dobbiamo soltanto dirci come facciamo a fare le cose che prima facevamo meglio perché probabilmente le cose da fare oggi sono cose diverse come facciamo a recuperare il contatto con la gente certamente non come facevamo prima e non come facciamo adesso se dobbiamo trovare una soluzione e farlo in un modo completamente nuovo e devo ammettere che io stesso ormai comincio a sentirmi zingaretti oggi diceva sento sono parte del passato sia quelli che erano affezionati alla ditta sia quelli che si sono proposti come nuovo in questo devo dire che zingaretti ragione io mi sento vecchio io penso di appartenere a una stagione che forse va superata ho cominciato a far politica pensando che il rinnovamento fosse importante e oggi forse essere rinnovato dover essere rinnovato sono io stesso sono 13 anni che faccio politica ho fatto il deputato ho fatto il sottosegretario due volte sono stato rieletto deputato e quindi forse devo essere io stesso a fare un passo indietro lo farò in modo diciamo del tutto felice se questo servirà anzi cercando di aiutare chi potrà venire dopo la mia generazione e poter presentare al paese un progetto fortemente innovativo che possa come ho detto riportare quei valori che tutti rappresentiamo ai quali tanta parte d'italia è affezionata io credo ancora la maggioranza d'italia è affezionata una maggioranza magari silenziosa magari un po' intimidita perché io mi rifiuto di pensare che chi oggi governa con quei toni rappresenti la maggioranza del paese c'è tanta buona italia che si sta chiedendo cosa succede e sta cercando probabilmente una leadership sta cercando un messaggio una tonalità più comprensibile per poter uscire di nuovo dalle case poter esprimere nuovamente quello che sentono che sono i valori di un'italia sana dell'italia che conosciamo della nostra grande cultura della nostra grande civiltà che una civiltà inclusiva umanista illuminata questo siamo noi l'italia o è questo o non è nient'altro e quindi bentornati a tutti io mi fermo qui vedo che ho parlato per quasi 40 minuti una specie di corazzata piotionkin spero che non ci sia un fantozzi in platea mi fermo qui vi do appuntamento a domani alle ore 17 per una cosa molto 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 più breve vi ricordo sempre di condividere questa diretta di condividere il video che resterà su youtube e sulla mia pagina facebook ci vediamo domani cominciamo a parlare dell'attualità politica come abbiamo fatto sinora scusatemi ancora per la lunghezza di questa puntata come dire di di rientro e di riassunto delle puntate precedenti ma forse era importante farla è un piacere avervi ritrovati ci vediamo domani alle ore 17 ciao